Essere un attore è un percorso che non termina, che non finisce mai, che non arriva mai a nessuna certezza. Vuol dire essere dei ricercatori, degli sperimentatori. Questa è un'arte. Essere attore vuol dire vivere da attore. Vivere da attore. Ma lui ti ha raggiunto il tuo cuore? Perché a me no. A voi me l'ha raggiunto? Il punto è comunque che il regista va soddisfatto. Il regista è il capo, il regista è il nostro capo. Lui ha la sua visione e noi dobbiamo essere in grado di entrare in quella visione, profondamente sposarla, rispettarla, onorarla e mettersi al servizio. La cosa meravigliosa delle emozioni è che non sono intelligenti. Le emozioni non sanno se stanno venendo fuori perché sta succedendo qualcosa veramente o se lo stiamo evocando con l'immaginazione. Questo è uno strumento incredibile che noi abbiamo. Noi possiamo evocarle un'emozione. E vive da sé, ragazzi, l'emozione vive da sé. Una volta evocata, vive da sé.